Avviso il capitano che stiamo andando nello yacht, Fere Yacht? Sì, yacht Steph, non abbiamo uno yacht, dico a Steph, però non ti ha fatto male caldo oggi Fere, abbiamo sempre avuto uno yacht, io ci vado da mesi e mesi a rilassarmi E tu non sai che abbiamo uno yacht No, non è vero, sei un bugiardo, non abbiamo mai mai e più mai avuto Guarda la mappa Ok Vedi che c'è il segno dello yacht e dice lo yacht di Steph? Abbiamo uno yacht Ho comprato uno yacht senza dirmi nulla, Steph Sì, esatto, Fere Guardami in faccia in questo momento, perché io sono molto arrabbiata e mi devi guardare in faccia Hai comprato uno yacht senza dirmi nulla? Sì, Fere, però ti sei arrabbiata No, Fere, dai Questa segna la nostra fila Dai, Fere, dove vai? E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E io sono Steph, perché sei oggi come GTA 5 E siamo qui con un nuovo episodio di GTA Ma quest'oggi faremo una cosa un po' particolare Perché metteremo a confronto due veicoli di GTA Prima di tutto lo yacht e lo confronteremo con l'aereo di lusso E quindi cercheremo di capire quale secondo noi è il migliore Esattamente Questo è un nuovo format che potenzialmente possiamo continuare a proporvi Quindi fateci sapere subito con likes, commenti, visualizzazioni, eccetera, 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 eccetera Se lo volete rivedere Come funziona? Allora, abbiamo preparato sei criteri con cui valuteremo sia lo yacht sia l'aereo di lusso Valuteremo l'utilità, la bellezza, la resistenza, il costo, la comodità e gli oggetti interagibili che troveremo a loro interno In questo modo, diciamo, potremo trovare quale dei due veicoli di lusso è il migliore Perché all'incirca costano lo stesso tanto Quindi è interessante vedere qual è il migliore tra i due Allora, partiamo dallo yacht dato che siamo qui Ah, scusa Steph, pensavo dovessimo andare in gommone Pensavo dovessimo scendere, prendere una barca e andare Non ce l'ho pensato È vero che poi anche lo yacht ha l'atterraggio per l'elicottero Già, già Sai come tu non mi hai mai comprato uno yacht Quindi io queste cose non le so Comunque, infatti, è la prima volta che vediamo il nostro yacht E vi dico, dato che era scontato, l'ho comprato con tutti i lusti Quindi è il meglio del meglio Sì, è costato praticamente tipo metà prezzo Sì, praticamente sì Quindi era un affarono incredibile Andiamo, 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 non vedo l'ora di vederlo Allora, dobbiamo essere però serie e professionali Fere, perché Li ho messi neon rosa, Steph No, li ho messi blu Perfettissimo Scendi che così ci risolviamo tutto Allora, 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 allora Da che cosa partiamo? Perché io valuterei una cosa alla volta, Fere Anche secondo me Diciamo che diamo un voto da 1 a 10 Ok, in modo tale che poi Quando andiamo nell'aereo Facciamo un confronto tramite i voti Non stiamo lì a dire Esatto No, meglio questo, no, meglio quello Quindi mi raccomando, ti devi anche segnare, Steph Segnateli Bravo, bravo Allora, da cosa iniziamo? Scegliamone uno, vai Io partirei dall'utilità Ok Perché comunque, secondo me, l'utilità È, diciamo, una cosa molto importante Allora, prima cosa utile Che notiamo nello yacht È il fatto di poter parcheggiare il nostro elicottero Quindi punto a favore È una cosa utile perché è un parcheggio per l'elicottero Cioè, non è male come cosa È pur sempre una roba carina Poi, vediamo un pochettino Una cosa che di sicuro non ha lo yacht, però È il potersi muovere Perché non è un proprio vero veicolo Quindi non ci possiamo muovere in giro Di conseguenza, questo per me li fa perdere qualche punto Sì, che lo puoi muovere, Steph No, allora, noi possiamo cambiare la posizione in cui sta Ma non si può muovere liberamente Io sapevo, invece, non so perché Che lo puoi guidare Nella cabina del capitano lo puoi guidare No, no, no Noi possiamo cambiare la posizione in cui sta fermo Capisci? Ah, ok Però non lo puoi far muovere dove vai tu Quindi comunque Ma questo è un peccato Quindi diciamo che È un difetuccio, secondo me Lo puoi prendere solo qua per star fermo Per godertelo Che questo però sia un po' difetto Io avrei preferito che si potesse guidare Qualche punto, Lilia, dobbiamo togliere Oh, mamma mia, che fantastico Ti cambia il costume in automatico Oh, bellissimi Io poi non ho mai scelto un costume Quindi non so da dove essere tirato fuori Neanche io Neanche io Grazie, grazie Però venire a chiamare un costume Allora, secondo me ti dico Altra utilità Guarda qui Abbiamo barche e motoscaffi parcheggiati Da poter prendere per ogni evenienza Quindi secondo me Seconda utilità davvero interessante Quindi abbiamo elicotteri e barche di tutti i tipi E infine La terza utilità Che è una cosa che avevamo scoperto Con un si può fare È il fatto che se veniamo qui Possiamo seminare la polizia Perché se ti ricordi Qui dentro la polizia non ci viene E quindi è anche un ottimo mezzo Per scappare dalla polizia Quindi Sapendo tutto questo Ma sapendo che non possiamo muoverlo Dove vogliamo Che voto gli dai, Fere? Da 1 a 10 Non lo so Tu che dici? No, voglio prima sapere il tuo Poi ti dico il mio Perché altrimenti secondo me ti influenzo Allora, per me è un 7 Ok Per me è un 7 Secondo me è un 8 Ti spiego perché Perché comunque Anche se noi non lo possiamo muovere Ci dà tanti veicoli Con cui muoverci in giro Di conseguenza Ha il suo difetto maggiore Lo possiamo compensare in questo modo Quindi per me Considerando il fatto Che puoi seminare la polizia Ci puoi parcheggiare l'elicottero E hai un sacco di barche in giro Secondo me un 8 se lo merita E soprattutto c'è un'altra cosa da dire È immortale Non puoi farlo esplodere in nessun modo Quindi anche questa è una garanzia Sei d'accordo con l'8? Allora sì dai Con l'8 si Ok Me lo segno 8 su 10 Quindi 8 su 10 Pensando anche al fatto Che non lo puoi distruggere È davvero ottimo Secondo me è una cosa Che comunque bisogna considerare Adesso seconda cosa da valutare Secondo criterio La bellezza Ok 10 Vero 10 su 10 Però ci verranno 10 su 10 anche l'aereo Allora Ho un amore particolare Per gli yacht Cioè mi piacciono proprio Le barche giganti Hai visto le rifiniture in oro qua? Eh diciamo che sono un po' di parte Soprattutto se me lo presenti Proprio così Con le rifiniture in oro Con i neon blu Così con questo parquet Bellissimo Super pregiato Diciamo che per me 10 ad occhi Volevo farlo vedere anche da lontano Però ho paura di riprendere l'elicottero Aspetta Vado col motoscaffolo Faccio vedere anche Da un po' distante Anche per ora Per valutare la bellezza Bisogna farlo vedere Sta facendo notte Steph Quindi si dovrebbero accendere Si dovrebbero accendere Ah non ho fatto vedere il nome Sai come si chiama Ferre? Si chiama Stefello Perché Stefello? È il nome del mio Però meglio se non lo facessi vedere Guarda Perché tu non l'hai visto Ho scelto questi colori Ti piace? Sì è molto Vero? Rosso e bianco Poi io ho dei miei abbinamenti preferiti Quindi Secondo me È strabello Cioè soprattutto Guardate questo punto Con proprio la scrittina Stefello qua Ditemi che non è spettacolare E si stanno anche iniziando Ad accendere i neon Però per adesso Sono abbastanza timidi Perché ancora Non è notte Quindi per la bellezza Che dici Sei d'accordo? Dai Diamoli sto 10 Tanto lo so già Che lo daremo anche all'aereo Il 10 Sull'estetica Quindi Non è un problema Se la contenderanno Per le altre cose Esatto Allora dopodichè Resistenza Ci tocca dare un 10 Perché appunto Lo yacht È completamente immortale Possiamo giusto valutare Il fatto Che non ha una difesa Per i parcheggi Sia degli elicoteri Che delle barche Quindi secondo me Potremmo scendere un 9 Perché comunque Se ti distruggono tutti i veicoli Ti rifaranno 8 Dallo yacht Fino alla terraferma Ti ammazzano E ti ammazzano Quindi 9 Ci sta? Ci d'accordo? 9 Ok Quindi per ora Abbiamo detto Utilità 8 Bellezza 10 E resistenza 9 Adesso Dobbiamo valutare Il costo Ok E qua secondo me Ci sono due cose Da valutare Il costo originale E il costo scontato Perché comunque Appunto GTA ha fatto uno sconto Anche valutare Che noi l'abbiamo preso Con lo sconto Esatto Cioè come quando Compri una roba in saldo Comunque conti Il costo in saldo Esattamente Quindi Io ho fatto uno screenshot Dove ho tutti i prezzi Che ho pagato Per questo yacht In modo tale Da poter fare un confronto Sì Ma li mettiamo anche qui di fronte Così li vedono tutti? Non lo so se avrò voglia Allora fai vedere il cellulare Esatto 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 Però Webcam Ce la fa? No non ce la fa Vabbè Allora Abbiamo il modello Si sta accendendo Steph Lo so che si sta accendendo Però dobbiamo ancora aspettare un po' Quanti sono rimasto qua apposta Il modello costa 8 milioni Le finiture costano 750 mila dollari L'illuminazione 500 mila dollari Il colore 200 mila dollari E basta così Se noi facciamo una somma Del prezzo Normalmente Arriviamo praticamente A 10 milioni Circa 9 milioni e mezzo Ok Se invece valutiamo il prezzo scontato Da 8 milioni L'ho pagato 4 milioni E 8 milioni e 8 Lo sconto Lo sconto È incredibile Del 40% Ed è davvero davvero good Non so se vi ricordate Ma l'aereo di lusso Costa 10 milioni Quindi anche non scontato Lo yacht costa meno E di conseguenza Vince la battaglia sul prezzo Perché ovviamente La cosa più economica È la cosa migliore Nel momento in cui Certo Bisogna spendere tutti questi soldi Quindi diciamo che sul costo Vince lo yacht E continuo a dire Che io sono di parte Vale la spesa Sti a prezzo pieno Che a prezzo scontato Cioè a prezzo scontato Ancora meglio E la serie E la prezzo scontato È fantastico Se lo trovi scontato Te lo devi comprare Assolutamente Senza neanche pensaggi Esatto Ok allora Siamo al penultimo criterio Che è la comodità Ok Per me nella comodità Ci stanno diverse cose C'è questa bellissima vasca Ed romassaggio Che Oltretutto è interagibile È interagibile Tutti ci siedi qua E ti rilassi Ci possiamo sedere E infatti andrà valutato Anche tra gli oggetti interagibili Dopo Però Per quanto mi riguarda È una comodità Assurda Quindi questo Lo contiamo Sicuramente Dopodiché Abbiamo dei divanetti Un pochettino Ovunque E non so Se possiamo entrare Fammi vedere Cosa vediamo all'interno Fere perché Ho qualche dubbio Se abbiamo delle T O qualcosa del genere Aspetta Che ti sto facendo venire Fere tranquilla Grazie grazie Vediamo dove ci porta Credo che sia la cabina Perché Confondo sempre Come lo yacht In single player E in online Allora Ok siamo negli interni Vedo già delle poltroncine Dopo che Saliamo le scale con Leon Sembrano quelle di Tower Unite Sì E c'è un let Divani Divani Contro divani La puoi accendere la tv? Fere guarda anche il bar No Per versare un drink Ma c'è pure Allora abbiamo una signorina chiusa Qui dentro Cioè che non puoi uscire A lavorare tutto il giorno Perché non puoi Non puoi entrare Cioè non puoi uscire La tv non si può accendere O quantomeno Aspetta mi sembra Aspetta No 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 Ho sbagliato Io non volevo Ah sì 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 Posso 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 Perfetto 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 Ok qua stiamo già vedendo Infatti un po' di oggetti Interagibili Stavo valutando il bar La signorina ti serve Tutti i drink Che vuoi Quindi perfetto Ok allora Quindi abbiamo Vasca idromassaggio Divani ovunque giganteschi E bellissimi Un bar dove bere E rilassarsi con calma Mentre si viaggia Col proprio yacht Per me È una comodità Sì No poi c'è dai Qua c'è il salone gigante Con la tv Maxi Fermo 8 o 9 10 10 Dai a tutti i comfort Cosa ti manca scusami Cosa ti manca Quando stai qui dentro Eh in effetti Dai dai Se lo merita Eh dai sì Se lo merita Effettivamente è la cosa In cui funziona meglio Oggetti interagibili Invece Abbiamo il bar La televisione I divanetti dove sederci La vasca idromassaggio E per me anche I veicoli guidabili Sono un'altra interazione Certo Certo Quindi Io Ha tante interazioni Devo dire lo yacht Personalmente gli darei Un 8 Perché non ha qualcosa Con lo zago Ok Cioè ad esempio Avrebbero potuto mettere Il braccio di ferro Avrebbero potuto mettere Magari anche un campo da tennis Per dire fuori Le frecette Come il motorcycle club Che è più cose da fare Secondo me Diciamo che lì perde qualche votino E quindi un 8 Mi sembra abbastanza equo Che dici? Sì Ti piace? Ok allora Quindi facciamo un recap dei voti Dopo che andiamo a prenderci L'aereo di lusso E vediamo se riesce A battere questi voti Però Devo dire che sono davvero alti E sarà difficile Allora Questa sfida è un po' difficile È uno dei veicoli più belli E più ambiti Lo so È normale che abbia dei voti alti Utilità 8 Bellezza 10 Resistenza 9 Costo Vittoria Perché appunto Non ha un voto Direttamente Vince contro l'aereo Comodità 10 C E oggetti interagibili 8 Ok? Sì Adesso possiamo andare a prenderci Il nostro aereo E nel mentre ce lo riguardiamo Dall'elicottero Questo yacht Perché adesso avrà tutte le luci accese E vediamo un pochettino Che voti si riesce a becare E se vince la sfida Eccoci arrivati al nostro Aereo privato Ma è questo A te non piace? Fere è d'oro È tutto dorato Fere È bruttissimo Allora scusa un attimo Io mi aspettavo Come aereo privato Qualcosa di Enorme No ma l'aereo privato È piccolino Ma non lo so Lo sai che a me piacciono Le cose possenti Proprio di quelle sfarzose No Ma è bello Potiforma È troppo È un po' allungato Mi sembra tipo Allora Aspetta Te lo dico Un corvo Vedi che sembra Un corvo Guarda lì il muso Sembra il becco di un corvo Ma quando vai? Ma è un po' Non lo so Trova a salire dentro Ciao bella Ciao Steph Come si sta qui dentro? Un po' stretti Un po' strappo Un po' claustrofobico Allora 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 parto comunque Anche qui dal presupposto A Ferenichi non piacciono Gli aerei Ma neanche a te piacciono Che hai più paura di me Degli aerei Quindi non dare solo Le colpe a me Vabbè ma io riesco A pensare che è un videogioco Ok Però ora siamo fermi A terra Non siamo raccollati Quindi Possiamo iniziare a valutare I voti Ok I criteri nostri Vai Questo aereo Ok È molto veloce Ed è bello da guidare Infatti dopo lo proviamo Anche in volo In più È più comodo Rispetto a un elicottero Perché ha un sacco di lusso Cioè possiamo fumarci un sigalo Possiamo bere qualcosa Guardare la cosina Guardare la televisione Insomma è molto comodo Ecco Sto assaggiando la champagne Ecco che ne approfitta Ok Quindi secondo me Ha un'utilità molto alta Che voto gli dai all'utilità Feren Non lo so Beh dai Allora Tu pensa Poterti spostare In tutto il mondo Comodamente Non lo vedo Non lo vedo Troppo utile Capito Nove Sì dai Cioè cosa vuoi di più Alla fine Da No perché sì No In effetti In effetti È più comodo Dello yacht Che comunque Si può spostare Solo di zona Esatto Invece qui Te ne vai proprio Dove vuoi E comunque dai Un aereo di lusso Ovviamente È stracomodo Esattamente Allora Bellezza Devi valutare sia fuori Che dentro Cosa mi dici Allora se dovessi valutare Solo fuori Ti darei un 5 Ok ma anche dentro Però siccome è valuto Anche dentro Io direi dai Un 6 e mezzo Solo Sì sì Ma povero Diamoli almeno un 7 Perché è un romassiccio Dai Ok 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 Di notte a te sembra verde Ma è un romassiccio Ed è strabello Quindi diamogli Sto 7 poverino Che se lo merita Adesso però abbiamo Un problema grosso Resistenza Quest'aereo Se sfiera qualcosa Quindi Di resistenza Non resiste Di resistenza Non resiste Di conseguenza Gli diamo Secondo me Un 6 Che è il minimo Secondo me Che gli si può dare Perché come qualsiasi altro aereo Se tocca qualcosa Esplode Ma come viene distrutto Tipo se gli arriva un missile Muore subito Quindi direi un 6 Il costo ha perso Perché appunto Costa di più Costa 10 milioni Comodità Che voto gli diamo Eh dai Comodo è comodo Secondo me è un 8 Sì Vero Perché comunque È abbastanza comodo Cioè siamo qua tranquilli Dentro l'aereo Non si è costretto A stare solo nel sedile Del passeggio Esatto 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 E infine E se non ricordo male Quando voli Se tu guardi dal finestrino Vedi esattamente Tutto il panorama Reale del gioco Bravissima Volevo dire anche quello Negli oggetti interagibili Quello è bello Oltre al sigaro E al poter bere Lo champagne Devi valutare anche Il poter guardare Dal finestrino Tutta la città Con la visuale Della prima persona Che è una cosa Che comunque Non si può fare In nessun altro modo Quindi secondo me Anche quello Prende punti E quindi anche In oggetti interagibili Io almeno un 8 Glielo darei Vero? Sei d'accordo? Sì Allora Quindi facciamo Un confronto voti Utilità 8 a 9 Per l'aereo Di lusso E quindi Un punto in vantaggio Bellezza 10 lo yacht E 7 L'aereo di lusso Quindi perde 3 punti Di conseguenza Va in vantaggio Di 2 punti Lo yacht Resistenza 9 a 6 Di conseguenza Andiamo in vantaggio Di 5 punti Per lo yacht Il costo Se lo becca Lo yacht Quindi 6 punti Di vantaggio Comodità 2 punti Per lo yacht Siamo ad 8 punti E dopodichè L'oggetti interagibili 8 pari Di conseguenza Lo yacht Vince di 8 punti Sul L'aereo privato Secondo me L'aereo privato Per quanto utile Altro perde in bellezza Secondo me Tipo da fuori Allora Per gusto personale Da fuori Esteticamente Mi piace proprio Che potevano inventarsi Un po' di cose Allora Per 10 milioni Stai guidando Così vedo il panorama Per 10 milioni Ripeto Me lo aspettavo Un po' più grande E tu adesso Ti stai confondendo Ma gli aerei privati Hanno davvero Quei mini salottini Ma vabbè Dipende da chi C'ha l'aereo privato Ci saranno quelli belli E quelli normali Stiamo parlando Da un aereo privato Da 10 milioni Cioè tu con 10 milioni Te lo compri Nella realtà Fede No Sono tipo 50 milioni Vabbè Allora Paragolano Uno della realtà Perché Allora Qui tanto Farmare 10 milioni Come farmare 50 Nella realtà Ok Quindi è la stessa cosa Vabbè Fer è esploso Anche atterrando Ha semplicemente Toccato un palo E si è smontata Un'ala Sinceramente Proprio Bocciatissimo Per 10 milioni No Di conseguenza Lo yacht Ha surclassato Il nostro Aereo privato Faticità per anche voi Con il sondaggio Secondo voi Qual è migliore Ma credo che Più o meno Saremo tutti d'accordo Perché C'è davvero Poco paragone Secondo me È decisamente Superiore In ogni caso Se il format vi è piaciuto Lo riproporremo Speriamo che appunto Vi sia piaciuto E ci fermiamo così Per che siete Sì su tutto Sieteci un bel like Nella prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare Non iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Alla prossima